L'Italia si è astenuta dalla risoluzione ONU che chiedeva il cessate il fuoco. L'ha votata la Francia, l'ha votata la Spagna. Noi ci siamo astenuti e la Premier ha adotto come giustificazione il fatto che è la posizione più equilibrata. Ma c'è equilibrio nel non chiedere cessare il fuoco? Quella risoluzione, Luca, aveva un piccolo problema. Intanto non ci siamo astenuti soltanto noi, ma si è astenuta anche la Germania, ad esempio. Ma quella risoluzione aveva un problema che non condannava gli eccidi, i massacri, dei tagliagole di Hamas del 7 ottobre. Questo è uno dei punti fondamentali. Non può esistere una risoluzione di un organismo internazionale che non parta dal fatto che quello che ha fatto Hamas il 7 ottobre è un atto terroristico, gravissimo, che va condannato e va anche combattuto. Dopodiché Travaglio, che è un esperto molto più di me di politica medio orientale, ma molto più di me di tantissime altre cose, dimentica una cosa che, voglio dire, la logica riferita alla soluzione che si può trovare per quell'area è solo una, quella di tornare al punto di partenza del 1947, due popoli, due stati. Solo che gli ebrei l'hanno fatto il loro stato, hanno fatto lo stato di Israele. I palestinesi hanno negato sempre la volontà di dar vita al loro stato. Hamas non vuole che nasca lo stato palestinese perché vuole continuare ad essere un'organizzazione terroristica. e anche la popolazione di Gaza e tutta la popolazione della Palestina, compresa la Cisgiordania, non è che è allineata alle posizioni di Hamas. Anzi, comincia a soffrire, secondo i sondaggi che sono stati rilevati recentemente, a soffrire questa posizione di Hamas che, dando vita ad una guerra santa, sostanzialmente mette a repentaglio la vita dei civili. Cioè, il problema vero è che è Hamas che mette a repentaglio la vita dei civili. Cioè, è proprio sbagliata l'ottica, l'obiettivo. Non è Israele che mette a repentaglio la vita dei civili. Perché c'è del vero. È Hamas che mette a repentaglio la vita dei civili con i suoi atti. Qui c'è del vero. Ho detto prima, quelli stanno nei sotterranei e espongono. Hanno addirittura una base sotto un ospedale, quindi lo sappiamo. Ha fatto bene o male ad astenersi sulla risoluzione dell'ONU per il cessato di fuoco? Secondo me ha fatto male, perché in quella risoluzione, che peraltro non è vincolante perché è dell'Assemblea, non è del Consiglio di Sicurezza, ha ammesso che ci sia qualcosa di vincolante quando arriva dall'ONU. Purtroppo non sembra. Come dice Crozza, l'ONU è come frato Gianni, non se la fida nessuno. Ma in ogni caso sarebbe stato un bel segnale votare insieme alla Francia e la Spagna per i cessati di fuoco. Perché quella non era una risoluzione che doveva condannare o meno, quella era una risoluzione che chiedeva una cosa concreta. La condanna del pogrom di Hamas, l'ONU, l'ha fatta quando c'è stato il pogrom di Hamas, tre settimane fa. Adesso si chiede una tregua. La tregua vuol dire cessare il fuoco, cessare il fuoco vuol dire tutti. Certo. Hamas in queste tre settimane ha sparato 7.000 razzi contro Israele, a dimostrazione del fatto che non l'hanno affatto indebolita, ammazzando 7.000 civili. E sta continuando a sparare. E sta continuando a sparare in perterrita. Quindi cessare il fuoco vuol dire cessare il fuoco tutti, non solo Israele, se non è cessate mezzo fuoco. Perché cessare il fuoco? Per la ragione che diceva Bocchino. Perché Hamas alza i civili a Israele. E Israele li cecchina. Non si può andare avanti così. Perché? Perché l'unico che si ha avvantaggi è Hamas. E gli unici che ci perdono sono i civili. E Israele si scredita una volta di più. Perché? Perché non ottiene il risultato sperato e continua a fare vittime civili. Ma io lo so, è talmente chiaro. Ma io lo so, è talmente chiaro.